Ciao ragazzi, grazie di esservi con me oggi, oggi come da voi richiesto e strarichiesto un nuovo video in cui gioco un po' con la schiena e oggi ho tantissime cose in più, oggi infatti ho ad esempio di pennelli, poi ho il gratta schiena, che secondo me è un giotto fantastico poi ho questo oggettino a legno, che devo ancora capire bene come usare poi ho questo altro rullo e infine ho anche tipo uno stetoscopio con un po' di scratching non so come tu faccia per i brividi certo non sono di freddo sei comoda? si io adoro che quando mi prendano questa parte così poi si sente bene non so se qualcuno più esperto lo starà se ne starà accorgendo ma sto usando un microfono diverso da quello che uso di solito per i massaggi di solito uso lo zoom però in questo caso sto usando il Blue Yeti perché perché secondo me cattura meglio i suoni comunque ho in in previsione di fare degli acquisti proprio specifici per i massaggi quindi i microfoni dentro le orecchie e anche dei microfoni molto più sensibili per catturare tutti i suoni bene molto probabilmente vedrete anche un altro video o avrete visto un altro video invece di massaggio quindi applicherò un po' di crema corpo e un po' di olio soprattutto qui che lei soffre molto qui di mal di schiena e l'altro questo? l'altro? di qua? ok ok adesso decichiamoci un po' i grattini voi ve lo ricordate da piccoli il gioco tu lo facevi il gioco dell'orto? dei pomodori sul brazzo? no io si dei fragole? neanche? no aspetta ti faccio uno però non mi ricordo così forse quello delle fragole è di fragole che praticamente e tu facevi venire la pioggia i tuoni e tu quando c'era tutto il gioco dopo dopo magari se facciamo il video con i con le mani lo facciamo a proposito commentatemi qui sotto se vorreste un video di massaggio però alle mani e alle avambracci secondo me è molto rilassante anche i grattini lì che sono belli ok allora andiamo con ordine partiamo dal collo e andiamo su ripetere un po' ok ok e poi pian piano le spalle andiamo su e di qua e andiamo su e andiamo su e vado pian piano a prendere tutta la schiena in mezzo e il collo e ancora dal basso in mezzo e al collo provo dall'altra parte e così e così e così e in mezzo adesso andiamo con questo strumentino qui che funziona pazzesco e in mezzo e in mezzo ok quindi esercito di leggere pressioni l'ho sentita l'umore è bellissimo tipo circolare tipo circolare per lonti per lonti e in mezzo all'ho sentita con oltre bello che ok, lo userò anche nella parte di massaggio poi andiamo a usare un pochino lo stetoscopio qui ok ok a me la so tantissimo non c'è da specificare penso ma lo sto specificando che so che lo stetoscopio non si usa sul collo lo stetoscopio in questo caso è stato per puro scopo un rilassamento, un peraltro questo è stato qui, no? qui o qui dove sono i polmoni comunque o anche dall'altra parte sulla pancia ok ok e vado adesso con i pennelli questo che è bellissimo e vado prima a farlo con il temporaneo ok 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 Non so bene le bellissime Ok, adesso un po' col pennello piccolo e mi sa che adesso è giunta l'ora di abbassarle lì ed augurarvi una buona notte Insegniamo una luoglietta, una luna, una stella, buonanotte 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 Buonanotte